Questo che da Chicago ha 290.000 euro per un rapporto messo, da Chicago? Chicago, ma c'è Polan capisce per 290.000 euro! Con piacere ritroviamo anche il Gaff che ci presenta uno spettacolo da un titolo che potrebbe suscitare alcune polemiche. Il titolo è Cum la gira giri, manda sempre Don. Diciamo che trattiamo un argomento vivo, un argomento che si presta a molte interpretazioni, però abbiamo voluto trattare quelli che sono i luoghi comuni riferiti al genere maschile e a quelli del genere femminile. Le donne che parlano male degli uomini e viceversa gli uomini delle donne. Poi chiaramente la trama della commedia si svolgerà con i consueti canoni dei colpi di scena, le situazioni paradossali. Non mancherà niente per trascorrere due ore di resate, di divertimento. Quanto si divertirà il pubblico da 1 a 10? Io penso 11, anche perché questa è una commedia che abbiamo già proposto, quindi siamo abbastanza sicuri del risultato. Noi ci siamo divertiti tanto, anche il pubblico che ci ha visto quest'inverno al Politeama. E quindi per coloro che l'hanno vista, che si vogliono nuovamente divertire e per quelli che l'hanno persa, non possono mancare venerdì 21 luglio con il GAF che presenta Cum la giri la giri, manda sempre le donne. Morto! C'è da portaviano a bondezza, salvento! Cum la giri la giri, manda sempre le donne! Grazie!